Primi allenamenti in bianco celeste, che impatto ha avuto col gruppo e con la città di Chiavari? Col gruppo mi sono trovato subito molto bene, tutti i ragazzi hanno un atteggiamento positivo, sono stati tutti bravissimi comunque a farmi sentire parte subito del gruppo e poi anche la città è molto bella e poi io sono un appassionato del mare quindi è una cosa in più. Diciamo che in questa settimana per ora mi sono trovato benissimo e sono sicuro che più andrò avanti sarà sempre meglio. Hai compiuto gli anni da poco, sei molto giovane ma hai già tante esperienze in Serie B. Sì, ho fatto 21 anni da poco, diciamo che finora le cose sono andate bene, ora voglio cercare di dare una mano a tutti questi ragazzi e soprattutto di imparare molto dai più grandi e sperando di fare bene. Il mister e lo staff sono tutti molto bravi e soprattutto sono molto preparati, lavorano molto con la tattica e anche sulla corsa. Per adesso mi hanno gestito bene e sono contento anche di tutto l'ambiente che ho trovato. Cosa chiedi a te stesso per quest'anno, per questa stagione? Chiedo sicuramente di dare più di quello che ho fatto l'altro anno perché l'altro anno potevo dare di più e ne sono consapevole. Soprattutto metterò tutta la mia parte a disposizione della squadra.